Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cioè ma anche una scoreggia che scende non scende? No. Mi sembra di no. Da tutto il tempo in cui si è morto e gli ha sparato, no, è sempre stata così la vita. Vabbè, basta. Ah no. No, è morto, è morto. Oh, mutatevi, mutatevi, mutatevi. Non ci credo. Deve essere stata una brutta giornata, Cristina, Cristina, umiliante, Cristina. Ma abbiamo fermato quel mostro e la morte. Radunatevi nella stazione di guardia. Ho una proposta che potrebbe interessarti. Grandissimo, Nico. Mutatevi. Ok, Sam. Qualunque sia il tuo piano per salvare Marxist. Spero sia decente. Lo è. Ho esaminato tutti i file di Iannus con dicitura A per essere bambi al direttore. Rictofene è ossessionato da un'antica reliquia. Il manufatto sentinetta. Stando a quanto dice lui, può manipolare una forma di protomateria chiamata rimmateria. Non dirai sospetto. Ho un termine usato nell'alchimia di Eman. Mi rifiuto di credere a queste scemente. Io sono uno scienziato. Come il direttore di Iktose, dottor Strauss. Pare che il manufatto sia da qualche parte nel Principato di Emanus. ha ingaggiato un gruppo criminale, il sindacato francese, per trovarlo. Stanno interrogando un certo Gart in crowd. Un vostro ex associato, Siria Iranus, ora in valli di sindacato, l'ha rapito su ordine del suo volo. Franco. Ci sto. Goditi la tua vendetta, ragazza. Ma per me sono un mucchio di viazze. Ah, certo. Anche altre cose ci sembravano impossibili. E Riktofen non è stupido. Se lui e Sam credono che il manufatto possa riportarlo indietro, dobbiamo provarci. Questo glielo dobbiamo. Non possiamo abbandonarla. Ha ragione. Intanto scopriamo se questa sentinella esiste davvero. Concordo. Ma voglio sapere dove si nasconde quel bastardo di un Riktofen. Ignoto. Forse è diretto ad Amani in cerca del manufatto. Allora troviamolo prima che lo faccia lui. Ehi gente, il ricottero pronto. Ma la serpesta peggiora. È meglio partire, ora. Grazie. 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 Grazie.